Buonasera, sono il professore Scalera. Faccio questo breve video per spiegarvi come si svolge una visita di chirurgia plastica per rifare una mammella presso la mia clinica. Nel momento della visita è importante esaminare attentamente la forma, il volume del seno e prendere con degli strumenti precisi la base della mammella, la distanza tra il giugolo e il capezzolo, la distanza tra i due capezzoli e la distanza tra il capezzolo e il sulco inframammario. Tutto ciò è importante perché questi dati noi li inseriamo in un software che è il Chrysalix che ci permette di simulare la vostra nuova mammella. Ovviamente presso la mia clinica abbiamo a disposizione le protesi delle migliori marche, quelle della GC Aesthetics, quelle della Mentor e quelle della Motiva perché ad ogni paziente scegliamo con il paziente la protesi giusta. Chiamatemi, fissate la visita con me e realizzate il vostro sogno. Ciao dal Prof. Scalera!